la situazione bellissimo confronto l'equipaggio di Como in acqua 3 sta spingendo molto in esterna l'attacco dell'equipaggio di Varese sono le acque 3 e 5 a confrontarsi l'equipaggio di Varese con Stocchetti sotto corno di Giovanni Salini e Colombo va a precedere Como, Spinelli, Maralla Pizzotti, Guarnieri, Pidutti e Peri Bronzo ecco arrivare l'equipaggio di Genova Cama, Poglio, Moggia, Ballardin Benini Anche il traguardo l'equipaggio è 4, 2 e 6 Simone, Simone, Moggia al secondo patore Ginelli, Gabriele, Maralla Ero Spizzotti Gianluca, Guarnieri, Camine, Pilotti e l'equipaggio vincitore nel quadro di punta Senior Valese Alessandro Stocchetti Edoardo Stocchetti Maverick di Giovanni Matteo Salina Alessandro Stocchetti